Come abbiamo già avuto modo di trattare nell'ambito della collaborazione con Urban Fire lo scorso mercoledì è stato pubblicato il bando Il Bosco della Musica per la realizzazione del campus e dell'auditorium del Conservatorio di Musica Giuseppe Verdi in zona Rogoredo. Più precisamente la palazzina Ex Chimici sarà di vita al campus mentre nelle immediate vicinanze sorgerà l'auditorium. L'assessore comunale alla rigenerazione urbana Giancarlo Tancredi ha colto molto favoribilmente la pubblicazione del bando perché permetterà non solo la riconificazione di un'area precedentemente problematica ma aiuterà anche a superare il monocentrismo che caratterizza i poli culturali milanesi. E proprio per questo abbiamo in collegamento proprio con noi questa sera e lo ringrazio per essere qui con noi l'assessore Tancredi che ci spiegherà meglio nel dettaglio l'importanza di questo intervento per la città. Assessore buonasera, grazie di essere qui con noi. In cosa consiste il bando Il Bosco della Musica? Buonasera a tutti, è un piacere essere qui con voi. Allora, si tratta intanto di una nuova sede del Conservatorio di Milano che non abbandonerà la sede storica nel centro della città ma ne aggiunge un'altra e ha scelto per questa nuova sede un'area nella zona di Rogoredo, una zona periferica della città dove però sono previsti importantissimi progetti di rigenerazione urbana basti dire che nello stesso ambito è previsto la realizzazione della nuova Arena Olimpica per le Olimpie di 2026 che ospiterà le gare di hockey su ghiaccio maschile. Nello stesso intervento, l'intervento Santa Giulia. In cosa consiste questo Bosco della Musica? Consiste in una nuova sede che ospiterà alcune centinaia di studenti, un auditorium per circa 400 posti e una residenza universitaria per circa 220 posti, oltre chiaramente alla funzione principale che è la funzione didattica per musica popolare, musica rock, pop, jazz. Il Conservatorio non fa soltanto musica classica ma allarga la sua didattica anche a vari tipi di musica, anche musica moderna. È il Conservatorio che lancerà, che ha lanciato in questi giorni, anzi, il bando per la progettazione dell'intervento. Quindi in questo consiste. È molto importante questo intervento perché dimostra come Milano si è ormai di interesse per varie, sia per investitori di tipo privato, sia per le istituzioni che vedono anche nelle zone periferie della città grandi opportunità per lo sviluppo delle proprie istituzioni. Ecco, mentre ci aspettiamo quindi di vedere, da quanto ho capito, un campus, la saranno famosi da ricordare, da pensare, proprio un polo per la grande musica appunto in quel di Rogoredo, un altro intervento che verrà fatto proprio nell'ambito di questo progetto è anche quello di portare degli uffici municipali all'interno di questa struttura. Anche questo è molto interessante, come quindi anche l'istituzione municipio incomincia a prendere spazio e anche farsi vedere sul territorio. Ma sì, come dicevo, tutto questo ambito di Rogoredo che si allarga anche al quartiere Corvetto è interessato da una vera e propria riqualificazione complessiva con tutta una serie di interventi, tra i quali la nostra nuova sede che è stata realizzata molto recentemente e che vedrà nell'intorno anche tutta una serie di interventi di riqualificazione degli spazi pubblici con l'incremento di spazi pedonali, la realizzazione di alcuni playground, nuove alberature, nuove piantumazioni, aree verde, aree gioche per i bambini e tutto questo fa parte di un programma appunto di rigenerazione di un'area non facile ma che attraverso una interventi potrà vedere nei prossimi anni, potrà diciamo cambiare volto nei prossimi anni. Cambiare volto sembra che sia proprio il destino di quell'area, anche il nome del bando infatti è interessante, il bosco della musica, ovviamente per cercare di cancellare il vecchio bosco della droga, giusto? Indubbiamente nel processo di rigenerazione il nome conta perché solo fino a poco tempo fa purtroppo la zona era nota alle cronache della presenza appunto di consumatori di stupefacenti e traffico di stupefacenti, grazie all'azione congiunta del comune, della prefettura e della regione siamo riusciti a debellare questo luogo che era appunto il famoso bosco della droga e a riqualificarlo grazie anche all'azione di Italia Nostra che era stata ingaggiata dal comune di Milano proprio per riqualificare quelle aree. E' chiaro che la rigenerazione passa attraverso un'azione coordinata e congiunta, attraverso un'azione multidisciplinare, non basta l'urbanistica, è necessario anche intervenire sul sociale, è necessario intervenire sull'ambiente, è necessario intervenire con la partecipazione anche del territorio dei cittadini. Da questo punto di vista anche il Municipio 4 ha dato un grande contributo. Perfetto, allora io Assessore la ringrazio davvero tanto, complimenti per questa opera, insomma dove è anche interessante vedere quanti attori ci sono al proprio interno e quindi insomma che quando si vuole si può benissimo lavorare tutti insieme per il bene della nostra città. Grazie, mi ha fatto molto piacere questo vostro invito e complimenti per la trasmissione. Grazie mille, a presto allora Assessore. L'aspettiamo ospite anche qui in studio allora. Grazie mille. Grazie mille ancora l'Assessore Tancredi, grazie mille.